amici in ascolto ben ritrovati tutti quanti sulle frequenze della ciclo di catechesi ad amma e la vita nella divina volontà giunta la diciassettesima puntata con l'aiuto di dio andiamo avanti nella lettura di questi brani assai belli illuminanti come saranno anche questa sera sul mistero della creazione sullo stato dei nostri progenitori sui doni da loro ricevuto su quello che hanno perso su quello che possiamo per grazia e per bontà di dio recuperare la volta scorsa abbiamo visto chi segue regolarmente insomma queste catechesi ricorderà che abbiamo visto lo splendore delle opere fatte nella divina volontà attraverso l'immagine dei soli splendenti che paragonati invece alle opere anche buone fatte con pura volontà umana appunto sono come soli dinanzi a piccole fiammelle smorte abbiamo poi visto come adam dopo la creazione riempiva dei suoi atti tutte le cose create gesù attraverso queste immagini ha fatto come dire un esempio plastico reale vivente di cosa significa agire nella divina volontà che vuol dire portarsi la divina volontà in tutte le cose e quindi muoversi tanto quanto la divina volontà è stesa cioè dappertutto e abbiamo anche visto come una condizione fondamentale di adam nello stato di giustizia originale era vedere l'amore di dio dappertutto e saperlo di cambiare perfettamente e abbiamo anche visto insomma poi chiaramente c'è sempre il rovescio della 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 medaglia come tutto questo fu sciaguratamente perduto e attraverso che a causa del peccato originale oggi faremo dei passi in avanti sempre dal ventitresimo volume che contiene tanti brani ecco dedicati all'approfondimento del tema oggetto della nostra catechesi che appunto la vita di damo nella divina volontà e passiamo immediatamente alla lettura perché sono come sempre molto belli e molto intensi vorrei riuscire se dio vuole a leggere a commentare almeno due procediamo subito con la lettura del primo ventitresimo volume 6 gennaio del 1928 giunta al punto quando dio creava l'uomo pensavo tra me perché gioi tanto nel crearlo ciò che non fece in tutte le altre cose che creò ed il mio amato gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia nel creare tutta la creazione con tanto ordine d'armonia noi demmo del nostro senza che nulla dovessimo ricevere da esse invece nel creare l'uomo mentre demmo del nostro gli davamo capacità di darci i nostri stessi doni come beni suoi in modo che noi dovevamo sempre dare tanto che si doveva formare una gara tra lui e noi noi a dare e lui a ricevere lui a darci e noi a sovrabbondarlo di più con i nostri doni questo dare e ricevere ricevere dare apriva le feste i giochi le gioie la conversazione fra creatore e creatura onde nel vedere la piccolezza della creatura festeggiare con la nostra altezza suprema trastullarsi gioire conversare con noi sentimmo tale gioia tale enfasi d'amore che tutte le altre cose create ci parvero nulla al confronto della creazione dell'uomo e se tutte le opere nostre ci parvero belle e degne e se il nostro amore corse in tutte le cose create fu perché dovevano servire per largheggiare in doni verso l'uomo e perché da lui aspettavamo il ricambio di amore di tutte le cose create perciò tutta la nostra gioia e gloria si accentrò nell'uomo e nel crearlo mettemmo tra lui e noi armonia di intelligenza armonia di luce armonia di parole armonia di opere di passi e nel cuore armonia di amore sicché da noi passavano a lui come tanti fili elettrici d'armonia medanti quali noi scendevamo in lui e lui saliva a noi ecco perché gioimmo tanto nel creare l'uomo e perché fu tanto grande il dolore che ci diede quando si sottrasse alla nostra volontà perché ruppe tutte queste armonie cambiò la nostra festa in dolore per noi e per lui distrusse i nostri più alti disegni deformò la nostra immagine che avevamo creato in lui perché solo la nostra divina volontà aveva virtù di mantenere bella l'opera nostra con tutte le armonie da noi volute tolta questa l'uomo è l'essere più vile e degradato in tutta la creazione perciò figlia mia se vuoi che tutti i tuoi sensi armonizzino con noi non uscire mai dalla mia volontà se vuoi ricevere sempre dal tuo creatore e aprire le feste con noi sia essa sola la tua vita e il tuo tutto bene come vediamo invito anche a commentando adesso questo brano a contemplarne un po la struttura no che è una struttura un po tipica che Gesù adopera quando parla di questi argomenti riguardanti la creazione lo schema è sempre lo stesso Gesù mostra la bellezza e varie sfaccettature dei doni fatti alla creatura uomo quindi il vertice della creazione mostra i danni fatti dalla creatura uomo per propria responsabilità e quindi la tragedia grossa che questo ha prodotto e mostra la possibilità del ricupero rivolgendosi a Luisa ma attraverso Luisa rivolgendosi a tutti noi fate attenzione perché proprio ieri anche se non c'entra con ieri o l'altro ieri adesso non lo ricordo mi permetterei di fare una lettura di un fuori pista nel senso che questo regno della divina volontà sicuramente verrà sul pianeta terra ho letto proprio l'altro giorno terminando la lettura del continua del ventunesimo volume questo brano che vorrei condividere perché possiamo un attimo capire dove ci stiamo muovendo quindi quando il signore si rivolge a Luisa e dico sempre attraverso Luisa a tutti noi lo fa perché il regno della divina volontà sul pianeta terra verrà leggo il brano sentite no qui Luisa scrive il 26 maggio del 1927 volume 21 è l'ultimo capitolo del volume 21 dice stavo pensando tra me Gesù ama tanto il suo volere e pare che tanto sospira che sia conosciuto affinché domini e regni l'intenzione noi tutte queste catechesi stiamo cercando di conoscere cosa sia questo regno della divina volontà e sappiamo che questo è un desiderio di Gesù poi prosegue ma mi sembra difficile che la divina volontà sia conosciuta perché non vi è chi se ne occupa né nessuno ha interesse tutto l'interesse sta in Gesù ma nelle creature non esiste questo almeno ai tempi di Luisa adesso pare che un po' di interesse in giro cominci a sorgere no quindi se queste creature mancano di dare questa gran gloria a Dio e di insieme porgere la pienezza delle tutti bene alle creature come mai potrà conoscersi il regno dell'eterno Fiat? ora mentre ci ho pensato il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto figlia mia ciò che a te sembra difficile non è difficile per Dio come nella redenzione non ci furono difficoltà né tutta la perfidia umana potente impedire il corso del nostro amore molto meno potrà impedire il compimento della nostra volontà la decisione di venire a redimere il genere umano attenzione a quello che qui Gesù dice quando la divinità stabilisce di fare un atto di compiere un'opera qualunque siano le cause le circostanze, gli impedimenti essa trionfa di tutto vince di tutto e fa ciò che ha stabilito sicché il punto culminante ed importante di Dio sta nello stabilire ciò che vuole fare fatto questo ha fatto tutto onde se in noi sta stabilito che la nostra volontà deve essere conosciuta e il suo regno verrà sulla terra è già come fatto come fu fatta la redenzione perché l'ha stabilito così da noi così sarà fatto per il regno della nostra volontà ecco questo mi sembra importante ricordarlo cioè qui stiamo parlando adesso noi io penso sempre insomma a noi e alle persone che seguono i passi di questo cammino quindi come una sorta nonostante che Luisa insomma sia venuta a mancare già oltre 70 anni fa nel 1947 insomma quindi è tanto ecco però ci si muove ancora diciamo in maniera un po' pionieristica nel senso che stiamo cercando insomma come esploratori alla luce diciamo di una non ancora grandissima fioritura anche come dire profondimento teologico di tante questioni io le vedo insomma mano a mano che leggo gli scritti ci sono delle cose veramente grosse ecco quindi uno si sente un po' pionieri ma si sente pionieri più pioniere di una cosa che ci sarà d'accordo la conoscenza del Signore riempirà la terra sta scritto nel libro del profeta Isaia quindi il famoso capitolo 11 dove vengono anche dette delle cose molto belle sui tempi messianici il lupo dimorrerà con l'agnello la pantera si trarerà con il capretto il leoncello e il vitello pascoleranno insieme la mucca si traierà fianco all'orsa il bambino metterà la mano nel covo del serpente venenoso il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide tutte queste cose sono scritte nella rivelazione pubblica questo è il profeta Isaia io non credo che qualcuno abbia ancora visto queste cose in questi drammatici giorni ahimè specialmente per l'Italia stiamo vedendo ben altro stiamo ancora vedendo un caos spaventoso un disordine immane nella creazione e noi dobbiamo sempre quando vediamo tutte queste cose dobbiamo sempre pensare se siamo cattolici cioè noi vedendo disordini di questo genere dobbiamo sempre pensare come la chiesa ci dice quando cominciamo la mia colpa mia colpa mia massima colpa cioè chi si trova in situazioni difficili è normale è umano che reagisca ma a volte anche un pochino malamente ma la motivazione la come dire la sapienza l'intelligenza quindi i doni dello spirito santo ci portano a pensare dice ma tutto questo caos tutto questo disordine viene dal caso cioè un caso adesso sono abbattute queste cose o è come dire è sempre tutto quanto purtroppo generato dal disordine primordiale d'accordo che deriva dalla volontà dell'uomo che si oppone a quella divina dando dando vita insomma a quello che è formalmente il peccato che è generatore di male un generatore di male su questo il catechismo della chiesa cattolica San Giovanni Paolo II hanno fatto delle lezioni stupende un male che non resta dentro di noi un male che assoluto fa male a noi numero uno ma purtroppo esce fuori di noi fa male al prossimo fa male al mondo fa male alla chiesa fa male anche alla natura fa male anche al resto della creazione perché il resto della creazione ubbidiente a Dio si trova a come dire a dover subire come dire in qualche modo il male delle nostre disobbedienze questi sono tutti quanti certamente dinamiche e meccanismi misteriosi d'accordo nessuno lo mette lo mette in dubbio noi non possiamo comprenderle a pieno queste cose né capire le dinamiche profonde che si ingenerano però possiamo semplicemente stare al fatto che il bene fa star bene e bene produce il male fa star male e male produce dovunque quindi ecco allora la creazione per quanto riguarda Dio è tutta ordine e armonia ordine e armonia finalizzata a cosa? al godimento dell'uomo ora io parlavo con qualche persona nei giorni scorsi no? cioè io penso che sia interessante confrontarsi su queste cose adesso apriamo un discorso che è un discorso che è un confronto anche con chi ascolta insomma una sollecitazione cioè noi vediamo delle cose per esempio anche nella natura guardando i documentari no? ma io dico un pitone io ho visto quest'estate su youtube casualmente dei video allucinanti cioè il pitone che si mangia si fa gocita un essere umano se lo mette nella panza insomma è una cosa bruttarella insomma dice questo sarebbe il fiat creante cioè è chiaro che questa è una cosa che non può essere che se il peccato originale non ci fosse stato dice ma il pitone l'ha creato nostro signore o è un mutante come dire è un ibrido cioè la creazione ha avuto una sorta di involuzione in peggio da cui sono uscite anche delle strane creature che in qualche modo non dipendono direttamente dal fiat creante oppure oppure cosa ben più grave cioè d'accordo cioè questa rivolta anche di alcuni esseri animali insomma contro di noi anche le belve che ci sbranano eccetera eccetera è sempre tutta conseguenza del peccato cioè questi sono perché cioè noi non possiamo semplicemente stare cioè ma questo non è un problema soltanto di un credente di un cattolico io penso che io a volte dico facciamo finta che io non fossi credente facciamo proprio un'ipotesi proprio da cioè e io non non mi accontento insomma della spiegazione insomma perché comunque la domanda tipica dell'uomo che è anche poi la domanda che fece nascere la filosofia che di per sé è una cosa buona l'uomo che si interroga sulla realtà e comincia a chiedersi perché questo perché quest'altro perché quest'altro cioè capito cioè dice eh no ma il pitone fa così perché la sua specie è fatta così mangia questo mangia quell'altro c'è la classica spiegazione scientifica correttissima che studia il fenomeno d'accordo e dice questo fenomeno è così le cause come dire scientifiche sono questo e si ferma lì ma c'è capito ma a me mi spiega perché succede sta roba qua cioè alcuni animali facciamo una domanda proprio sciocca ma le zanzare che alcuni zanzare che te pungono ti danno la madre ti ammazzano in uno stato di natura integra ordinata senza il peccato originale di Adamo ma ci avrebbero fatto del male punto interrogativo alcune specie strane no pensiamo per esempio gli scorpioni se uno legge il martirologio romano alcuni martiri sono stati ammazzati perché sono stati messi in mezzo agli scorpioni insomma è terribile morire tra punture degli scorpioni non è un bel animale lo scorpione insomma no capite pure il serpente il serpente insomma è tra l'altro simbolo insomma utilizzato ampiamente da quelli della concorrenza insomma dell'altra sponda insomma allora dov'è tutto questo ordine ed armonia del fiat creante certo la chiesa insegna che il peccato originale non ha distrutto ha rovinato quindi noi la bellezza della creazione possiamo ancora contemplarla perché non si è sfasciato tutto la bellezza del sole la bellezza del cielo la bellezza dei boschi delle montagne del mare dei fiumi dei laghi dei ruscelli eccetera eccetera no però dentro questo giardino adesso si sono inserite un sacco di cose brutte un sacco di erbacce un sacco di elementi stonati capite quindi mi avvice abbastanza in dubbio che c'è stato come dire un un mutamento nella creazione in peggio ovviamente in peggio anche le stesse malattie la chiesa insegna la dottrina del catechismo insomma che l'uomo nello stato di natura integra non poteva morire non poteva ammalarsi ma anche da un punto di vista sempre diciamo così è filosofico in senso ampio i batteri i virus sono tutti quanti disordini agenti patogeni d'accordo che vanno a inclinare l'ordine perfetto che è l'equilibrio del nostro organismo andandolo a alledere ecco quindi noi dobbiamo pensare alla creazione come un palcoscenico perfetto che Dio aveva fatto così perfetto e così bello perché cosa dice qui per dargli la possibilità a lui di sovrabbondarlo con tutti quanti i nostri doni cioè di dargli delle cose belle ci parvero belle e degne e se il nostro amore corse tutte le cose create fu perché dovevano servire per largheggiare i doni verso l'uomo cioè perché l'uomo oltre che a vedere direttamente nel suo contatto da amico ad amico da figlio a padre da sposo a sposa da innamorato a innamorato perché questi i rapporti che c'erano con Dio diretti doveva sentirsi ubriacato circondato ovunque mi giro c'è una cosa bella che il Signore ha fatto per me e la riconosco come tale l'armonia perfetta della creazione e nella mente di Dio tutto il creato converge all'uomo dice perché ha giudito soltanto nella creazione dell'uomo perché l'uomo era l'unica creatura a cui gli davamo la capacità di ricevere i nostri doni in maniera cosciente e consapevole di ridarci e di cominciare a fare con noi con le tre persone da tantissima tritta la gara tu ricevi bene i che io ti dono li fai tuoi e me li ricambi tu me li ricambi io te ne do altri ancora e tu mi ricambi ancora quindi questa relazionalità bilaterale tra Dio e l'uomo fatta di amore ricevuto e amore ricambiato di amore donato e amore accolto di amore dato e amore continuamente circolante apriva le feste i giochi le gioie la conversazione tra creatore e creatura bellissimo no? nel vedere la piccolezza della cattura festeggiare con la nostra attenzia suprema trastullarsi è da gustare questi termini gioire conversare con noi noi oggi possiamo parlare con Dio certamente no? ma parliamo con Dio nella dinamica profonda ma misteriosa della preghiera e ci vuole anche una bella preghiera insomma non è così immediato parlare con Dio non è così semplice percepire ed ascoltare la sua voce la stragrande maggioranza degli uomini non è completamente sorda non sente la voce di Dio perché adesso non si non si conversa come dice il libro della Genesi a tu per tu nel fresco della sera o non c'è più Mosè che parlava dice l'esodo con Dio a faccia a faccia come parlano due amici tra di loro non c'è non c'è più quindi vedete tutte le cose create servivano per largheggiare in doni verso di lui e perché dove aspettavamo il ricambio dell'amore di tutte le cose create capite questo avviene sempre a due livelli l'uomo riconosce il Tiamo di Dio e lo ricambia ma l'uomo attraverso la divina volontà mette nelle stesse cose create quello stesso amore di ricambio che si trova nella divina volontà e gliele ripresenta al Signore come se fossero sue questa è la stessa identica dinamica che adesso si compie nei giri l'abbiamo visto anche la volta scorsa gioimmo tanto nel che era l'uomo e fu tanto il dolore che ci diede quando risostrasse dalla nostra volontà perché ruppe tutte queste armonie cambiò la nostra festa in dolore per noi e per lui attenzione distrusse i nostri più alti disegni io quando sento queste cose mi viene un dolore interno e anche come dire un senso di di sbigottimento e vi posso dire insomma che questa è una sorta di chiamiamola confidenza mi viene un timore che mi fa dire Signora ti prego per favore guarda abbi pietà salvami da me stesso non permettere che io distrugga i tuoi più alti disegni cioè pensare che abbiamo questa possibilità cioè per una persona che ama sinceramente il Signore cioè pensare che io sarei capace di mandare in aria i suoi più bei disegni beh questa non è una bella non è un bel pensiero ma è già successo purtroppo è successo pure in maniera clamorosa deformò la nostra immagine che abbiamo creato in lui cioè il peccato ci rende dei mostri brutti è sempre molto bello ecco guardare in faccia le persone ma non con perché guardando in faccia una persona guardando lo sguardo guardando proprio il volto molto si capisce se quella persona viene all'amicizia di Dio oppure no proprio cioè perché anche se uno non avesse ho detto tante volte questo qui dei lineamenti morfologici gradevoli cioè la bellezza o la minore bellezza esteriore è un fatto anche oggettivo cioè se uno ha dei difetti come dire morfologici non è esteriormente bello ma ci sono delle persone che sono esteriormente belle che soltanto che le guardi in faccia ti rendono inquieto anche se morfologicamente sono belle e ci sono invece delle persone che morfologicamente non sono tanta questa bellezza io ne ho conosciuto più di qualcuna ma a causa della bellezza interiore che vivono il rapporto che hanno con Dio questa bellezza interiore tra luce traspare riverbera ridonda nell'esteriore e nonostante che siano morfologicamente tutt'altro che belle appaiono come tali qui dobbiamo sempre ricordare a me piace ricordare la visione per esempio dell'inferno che ebbero i pastorali di fatima videro i demoni come dei mostri orribili e poi le anime dannate chi conosce queste cose ricorderà che entravano dentro queste fiamme in forma umana e uscivano come mostri orribili anche loro cioè il peccato il male la deformazione il rovinare il distruggere ma se noi ce lo mettessimo bene in testa il problema è che le conseguenze cioè del male non si vedono in maniera immediata e diretta purtroppo capito cioè se io prendo uno gli do una martellata in testa la conseguenza di quella martellata almeno nei fumetti nella realtà posso pure mandarla anche dal creatore nei fumetti se uno dà una martellata in testa subito dopo nella vignetta successiva si è del bernoccolo il bernoccolo è la conseguenza immediata e diretta della martellata ma io non vedo le conseguenze immediate dirette del male che faccio non le vedo subito sono sempre delle e come dire possibilità di vista a posteriori molto 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 larghe complessive impossibile quello che uno percepisce è il malessere il malessere una persona che vive nella divina volontà non ha il malessere ha il benessere non il benessere economico il benessere sta bene si mangia un sacco di croci fa niente sta bene sta bene le croci le vive in maniera soprannaturale guardate che tutto questo fa perdere la divina volontà e l'uomo diventa un mostro ma attenzione Gesù dice tolta la divina volontà l'uomo è l'essere più vile e degradato di tutta la creazione siamo arrivati siamo scesi in base siamo andati all'ultimo posto più vile e degradato e quindi Gesù dice non uscire mai dalla mia volontà e se vuoi ricevere sempre dal tuo creatore ed aprire le feste con noi sia essa sola la tua vita ma noi comprendiamo cioè il tenore anche di di questi scritti no io questo ne sono sempre stato convinto cioè quando uno trova una perla di grande valore lascia perdere tutto perché deve acquistare quella perla e io fin dalle prime volte insomma che se entri a contatto con questi scritti percepi immediatamente ed è per questo che ho cominciato da subito a approfondirli e poi abbastanza precocemente anche insomma a condividere queste cose perché sono tesori che a mio avviso vanno condivisi con chi gradisce di accoglierli chi non gradisce di accoglierli non è assolutamente obbligato a farli no però compresi che qui c'era qualche cosa di altro e che andava oltre va bene vorrei leggere il secondo brano rapidamente e dare un piccolo commento è sempre il ventitresimo volume stavolta 13 gennaio vedete come sono abbastanza ravvicinati anche dal 6 al 13 dice così figlia mia la nostra divinità nel creare l'uomo accento tutto in lui come se non l'avessimo fatto in tutto il resto della creazione mettiamo tutto da parte ci occupiamo solo di lui il nostro amore è giunso all'eccesso lo guardammo e riguardammo per vedere se era bello se traspariva la nostra bellezza in lui il nostro essere divino pioveva come pioggia di rotta su di lui e che pioveva santità luce sapienza grazie amore bellezza fortezza e mentre ci scaricavamo su di lui i nostri sguardi erano fissi sull'uomo per vedere se tutte le nostre qualità erano accentrate in lui in modo che nulla doveva mancargli per amarlo e per essere riamati tanto che la sua bellezza ci rapiva il suo amore ci investiva tutte le nostre qualità messe in lui facevano ecco il nostro essere divino ci legavano e ci portavano a lui che tempo solenne che punto indimenticabile che fuoco d'amore fu la creazione dell'uomo tutte le nostre qualità divine strariparano e festeggiarono la creazione e per compimento della nostra festa gioia e felicità scossi dal nostro stesso amore guardammo la macchina di tutto l'universo e gli facemmo dono di tutto costituendolo re di tutte le cose create per poter dire a noi e a lui re dominanti siamo noi re dominanti è l'opera delle nostre mani il caro figlio partorito dallo sbocco del nostro amore sarebbe stato disdicevole non decoroso per noi fare del nostro figlio un servo dissimile da noi nella somiglianza e nel dominio non sarebbe forse disdicevole di indegno per un re fare del suo figlio un vile servo mettendolo fuori della sua legge in un povero tugurio questo re meriterebbe il biasimo di tutti e non si terrebbe come padre ma come tiranno molto più che il nostro parto usciva dal fondo del nostro amore divino perciò volevamo il decoro e l'impronta della regalità nell'opera nostra ora questo nostro amore fu spezzato dall'uomo e col sottrarsi alla nostra stessa volontà divina lui stesso si tolse l'impronta della regalità e le divise di re attenzione a questo passaggio ma da parte nostra nulla cambiò e persistemmo nella nostra volontà di fare dell'opera delle nostre mani il figlio re non servo perciò in tutta la storia della creazione ritorniamo all'assalto e al compimento del nostro volere chiamiamo una di questa stirpe e mettendo tutti da parte come se nessun altro esistesse rinnoviamo la solennità della creazione del primo uomo la foca del nostro amore forma onde altissime ci fa vedere tutto amore e mettendo costei in queste onde adonta che la nostra onivegenza vede tutto mettiamo tutto da parte e con questa rinnoviamo il gran prodigio del primo atto della creazione presumo che qui in questa parte finale stiamo parlando della Madonna allora cerchiamo di capire cosa che dice qui Gesù perché qui praticamente Gesù sta dicendo detto in pochissime in parole poverissime che ciò che fu la vita della Madonna sarebbe stata la vita di tutti noi di tutti noi nessuno escluso la sua bellezza ci rapiva il suo amore ci investiva queste sono parole che Dio potrebbe dire e di fatto ha detto e dice e per tutta l'eternità dirà a chi alla Madonna alla Madonna la Madonna è chiamata la piena di grazia Gesù ha detto il nostro essere divino pioleva come pioggia di rotta su di lui questi giorni abbiamo visto drammaticamente che significa una pioggia di rotta una pioggia di rotta è tremendo quindi non sei più andato a mettere d'accordo produce stralipamenti allora che cos'era questa pioggia santità luce sapienza grazia amore bellezza fortezza e ci scaricavamo su di lui scaricavamo su di lui a volte ci sono dei termini ci scaricavamo quando uno è carico che si deve scaricare da qualche parte deve si sfogare l'ha fatto su di noi e mentre l'ha fatto questo i nostri sguardi erano fissi sull'uomo per vedere se tutte le nostre qualità erano accentrate in lui e lo erano in modo che nulla doveva mancargli per amarlo e per essere riamati e la sua bellezza ci rapiva e il suo amore ci investiva cioè sentite Gesù che dice che tempo solenne che punto indimenticabile che fuoga in amore cioè Dio ha un ricordo indimenticabile momento della creazione dell'uomo quando ha potuto vedere il suo capolavoro perfettamente uscito dalle sue mani ha poco potuto cominciare a vivere perché c'è stato un tempo in cui Adamo è vissuto in questo tutto quello che abbiamo ascoltato fuoche d'amore scambi d'amore trastulli delizie reciproche però non soltanto vissute da Dio vedendo quello che Adamo chiede dice tutte le nostre qualità divine vedete il termine che usa strariparono piogge dirotto che cosa fanno venire gli straripamenti e festeggiarono la sua creazione e per compimento ancora della nostra festa gioia felicità sono questi tre termini festa gioia felicità festa gioia felicità festa gioia felicità cioè perché la nostra festa gioia potrebbe essere perfetta che cosa abbiamo fatto abbiamo costituito l'uomo re della macchina dell'universo uscita dalle nostre mani è tua per poter dire a noi e a lui re dominanti siamo noi e re dominante è l'opera delle nostre mani il caro figlio partorito nello sbocco del nostro amore cioè questo è Dio io recentemente ho fatto un paio di domeniche fa mi ricordo insomma una omelia dove dice aspetta un attimo aspetta un attimo ma tu sei sicuro che hai una corretta idea di Dio com'è Dio chi è cosa fa come opera cosa vuole come ti vede come ti vorrebbe come ti tratta a te creatura umana allora c'è un dramma dramma di ieri e dramma di oggi che l'uomo è cambiato nei confronti di Dio ma Dio non è cambiato nei confronti dell'uomo da parte nostra nulla cambiò cioè Dio adesso vuole ridare all'uomo esattamente quello che l'uomo ebbe prima della colpa d'origine e lo ha sempre voluto non è in atto questa sua volontà immutata perché in noi sono cambiate le condizioni lui stesso si tolse l'impronta della legalità e le divise di re quindi di nuovo ancora perdonatemi se insisto su questo punto ma gli uomini a questo non ci pensano e ci dovrebbero pensare cioè tutti adesso immaginate per esempio che cosa può succedere quali stati d'animo possono succedersi nei cuori e nelle menti di chi vive delle disgrazie pensiamo all'Aquila pensiamo a Matrice pensiamo all'Emilia Romagna quando c'è stato le Marche il terremoto io ricordo ai Numbre la distruzione della chiesa di San Francesco adesso tutti i disastri che sono successi in mezzo a Italia a destra a sinistra eccetera eccetera gli stati d'animo conseguenti a questo tipo di realtà la prima reazione che nasce è di prendersela con qualcuno e non è escluso che purtroppo come sovente accade vada drammaticamente a finire sul banco degli imputati il Padre Eterno come se perché il Padre Eterno si fa il capo di imputazione di non aver impedito alcune cose questo procedimento però per quanto attenzione cioè le circostanze drammatiche in cui i nostri fratelli e sorelle vengono a terminarsi e che nessuno può giudicare perché poi bisogna trovarci nella situazione perché è bello parlarne a distanza insomma ma è difficile parlarne a vicino quindi sono cose come dire umanamente comprensibili ecco però è anche un po' capite non corretto non corretto e non foriero di verità un discorso di questo genere perché lui stesso si tolse l'impronta della legalità cioè l'amore di Dio non è cambiato cioè se la terra diventa un inferno purtroppo certo che c'è chi ci soffia per farlo diventare un inferno non è certo Dio insomma il suo nemico soffia lavora ma noi dobbiamo decidere noi stiamo noi siamo noi l'ago della bilancia dobbiamo decidere se come dire aprire le porte ai soffi della distruzione o riaprirci a ciò che Dio non ha smesso di volerci donare che è che che cosa è la gioia il termine la felicità e la festa cioè Dio esiste in relazione a noi per darci questo se tu questo non lo vivi questo ti viene detto non è perché Dio non te lo vuole dare ma perché tu ti stai precludendo di poterlo avere siamo nel mese di novembre lo dico più di qualche volta lo stesso inferno che qualcuno è come dire usa come pretesto per bestemmiare contro Dio dicendo che no l'inferno non può esistere perché se Dio è buono non ci manda nessuno e se la misericordia di Dio esiste fa in modo che tutti siano strappati dall'inferno questo tipo di ragionamento è un ragionamento profondamente ingiusto profondamente ingiusto perché l'inferno è l'attestazione ultima estrema e radicale di questa verità che sei tu a dover decidere come campare come vivere e quale sorte ultraterrena scriverti questo procedimento è andare sempre a trovare il colpevole fuori di noi o è Dio o è il governo o è la chiesa o sono gli scandali o è mio padre o è mia madre o è la mia famiglia o è mio nonno o è la mia socia cioè in un processo anche di maturazione interiore anche a prescindere dal dono della vita noi non possiamo continuare ad andare sempre avanti così questo viene dall'uomo della strada alle più alte personalità cioè le persone magari ah no io sono una brava persona non faccio male a nessuno faccio questo faccio quest'altro però le cose vanno storte perché è sempre colpa degli altri questo tipo di meccanismo è un meccanismo perverso d'accordo? va rotto va tolto va tolto perché non è vero non riconosce la la verità cioè quando una persona entra in contatto con Dio si pente si vergogna perché proprio riconosce perché dico ma signore mio tu avresti voluto darmi tante cose belle io ci ho sputato sopra tante volte tante volte mi vergogno di questo qua mi dispiace d'accordo? per cui non soltanto che Dio è innocente ma Dio non ha neanche ragione di poterci vedere contenti cioè dovrebbe essere lui essere un po' arrabbiato con noi non viceversa e non lo è capite? perché quello che è uscito dalle sue mani è tutto bellissimo purtroppo l'uomo è il deformatore cioè io nego a Dio la grandezza della Madonna la Madonna ha dato a Dio la gioia di poter vedere chi è un essere umano perfetto uscito e mantenutosi come pensato e come voluto da Dio in persona questa gioia perfetta gliela darà soltanto la Madonna per questo che poi qui conclude io sono presumo che parli di lei in tutta la storia del Reddito di ritornare ammazzato a coprire del nostro volere chiamiamo una di questa stirpe umana e mettendo tutti da parte come se nessun altro si stesse rinnoviamo rinnoviamo la solunità della creazione del primo uomo una cosa analoga certamente non identica perché le condizioni di partenza non erano le stesse Gesù afferma di aver fatto con Luisa e entrare nel regno della divina volontà significa in qualche modo questa cosa qui ricominciare a viverla ricominciare a viverla ricominciare a viverla cioè possiamo noi fare una vita lontana dal peccato cioè smettere di ingenerare questo meccanismo perverso di deformazione di tutto di produzione di male di produzione di tristezza al contrario non di gioia di tristezza non di felicità ma di orrore non di festa ma di lutto sì che si può si può si può si può e oltre alla decisione che abbiamo visto prima al decreto divino che ha stabilito che questo sulla terra accadrà abbiamo anche un'altra come dire dichiarazione fatta da Gesù da parte nostra nulla cambiò e persistemo nella nostra volontà di fare dell'opera delle nostre mani il figlio re non un servo cioè questa è un'altra dimensione fondamentale cioè richiamiamo la memoria la famosa parabola del figlio al prodigo tra poco comincia l'anno C con la prima domenica d'avvento e la chiesa ci farà riflettere sul Vangelo di Lucca che è il Vangelo del figlio al prodigo è uno dei passi suoi ah chi c'è lì? lì c'è un figlio e c'è un figlio servo bruttissima questa cosa cioè per carità meno peggio di altre ma è brutto però così io da tanti anni ti servo e tu non mi hai mai ammazzato un capire da tanti anni ti servo dice il figlio maggiore non era contento il figlio maggiore pensava ma tu guarda questo qua sei andato a godere tu sei divertito hai capito sei fatta la bella vita sei scialato tutto il patrimonio e mi ritorna e mi pare l'abbraccia e gli ammazza il vitello grande e gli irrita pure la carta del credito perché gli metterà nell'aldito ma pensa un po' così dopo domani finita la festa a riparte e se vai io invece sto qui a soffrire a servire mio padre ma veramente uno pensa questo noi pensiamo cioè la vita cristiana è questo ascoltiamo un po' un bel po' di raccomandazioni che un bel po' di prediche a volte un pochino taglienti che giustissimamente io sto scrivo in toto fa papa francesco la vita cristiana è questa qui cioè che tu stai oh e mi tocca osservare comandami e no questo non si può facci picchia ma andrebbe tanto sai che bella una bella botta la sera esco e me ne vado all night e faccio il finimondo sai che bello che invece si può fare perché i preti dicono che è peccato insomma dicono pure che si va all'inferno quindi forse è meglio che non lo faccia ma che brutta cosa che brutta cosa cioè agire in questo modo con lo spirito da servi le parole di San Paolo voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura avete ricevuto uno spirito di figli quello che dice il figlio re che grida va padre cioè la vita nella divina volontà è una vita di amicizia con Dio è una vita dove Dio lo senti come a te vicino è una vita in cui tu Dio lo senti come tuo alleato come uno che ti vuole rimpinzare di tutti i beni possibili e che l'unico ostacolo che trova è te cioè se tu oggi non sei ricco sfondato d'accordo di beni spirituali molto più di quanto chi vogliamo nominare Rockefeller Berlusconi ecco chi è che è tanto ricco io non riconosco tutti sti cosi gli sceicchi dell'Arabia Saudita che ne so ecco guardate che Dio se Dio vorrebbe fare così per ogni essere umano se non lo fa non dipende da lui dipende da te l'uomo queste cose se le auto preclude fa una vita da disgraziato da meschino ah Dio veramente mi prende una pena nel cuore io sono cioè sono un prete quando giro l'ho detto altre volte ti vedi certe facce ti vedi le persone tristi arrabburiate a nebbia sempre incavolate arrabbiate ma se fa ancora piccolo dico ma ma questi non lo sanno che c'è un'altra c'è un'altra c'è un'altra possibilità di vivere la vita è bella è bellissima questa vita anche non è che che hai capito questa vita è bellissima ci sono tesori inesplorati cosa ha dato Dio santità luce sapienza grazie amore bellezza e fortezza c'è qualcuno che non le vuole queste cose qui sono cose belle queste qui quando si si gustano e si cominciano a vivere la vita esplode è bello d'accordo cioè noi dobbiamo essere fermissimamente convinti che Dio è così è certo che purtroppo quello che succede succede che dalla ribellione primordiale è nata una genia di ribelli come diceva il signore al profeta Ezechiele vaci a parlare questi comandanti non ti ascolteranno perché sono una genia di ribelli questo termine genia di ribelli che cosa fa si autocondanna ad una vita brutta e poi attenzione di questa vita brutta come insomma in maniera blasfema molti pensano e qualcuno ne ha fatto anche oggetto di espressioni artistiche diciamo così che ci vanno a mettere sul banco degli imputati il padre eterno che non ha fatto una dritta non doveva succedere questo doveva fare quest'altro non l'ha fatto doveva fare quest'altro non l'ha fatto diventa grottesca una situazione di di questo genere no allora Dio costruisce proviamo un attimo cioè facciamo una botta di vita mettiamoci nei panni del padre eterno Dio fa una creazione perfetta fantastiche ordinatissime che è un sovraccarico di dono al vertice della creazione che l'uomo che già avrebbe avuto come dono dei doni l'amicizia con Dio tutte quante le sue grazie la santità la fortezza la luce la perfezione l'amore la bellezza tutto quello che vogliamo per surplus gli da pure quest'altra che cosa fa l'uomo l'uomo folle si deforma deforma se stesso si condanna ad una vita meschina si condanna a morte d'accordo noi ci siamo da soli condannati a morte si condanna a soffrire si condanna alla miseria fa danni alla natura li fa lui capito e la natura stessa che dove essere al suo servizio gli si rivolta contro non gli obbedisce più a volte si impazzisce e succede al fine di mondo di chi è la responsabilità di questo nostra a chi spetta la possibilità di dire punto a questo circolo di morte maledetto d'accordo a noi a noi solo a noi scome cominci credi a tuoi operi fa una bella confessione cominci una vita di conoscenza del Signore così come vuoi averla adesso voi sapete che le prime conoscenze vengono San Paolo dice fides ex audito bisogna ascoltare ascoltare non è soltanto ascoltare una voce ascoltare vuol dire mettersi in atteggiamento ricettivo lo vuoi ascoltare anche leggendo se ti leggi il Vangelo tu stai ascoltando se ti leggi gli scritti di risa stai ascoltando non è soltanto l'ascolto come dire sonoro insomma di un insegnamento di una predica di qualcosa e poi si parte e poi si parte e chi parte in questo viaggio inevitabilmente io questo l'ho detto lo ripeto è chiaro che non è un fatto di un giorno forse neanche di un mese forse neanche di un anno non lo sappiamo ma i benefici che se ne traggono sono oggettivi ed evidenti anche se volta lo stato incidiente e la prima cosa che accade è la percezione reale e vera di chi Dio è Dio è amore allo stato puro tu che stai ascoltando sei uno sbocco allo stato puro del suo amore creato dall'amore creato per conoscere ricevere l'amore creato per ricambiare l'amore creato per far circolare l'amore dovunque ovunque ecco perché lo stile di una figlia della divina volontà è lo stile della Madonna la Madonna è amore vestito di carne al femminile ecco potremmo anche denominarla così perché perché conosce Dio la Madonna è una conoscitrice di Dio e quando uno conosce Dio ed è innamorato di Dio ripete nella sua vita esattamente quello che Dio è e quello che Dio fa né più né meno quindi questo per questo discorso se noi ci vediamo ancora in atteggiamenti lontani distruttivi passionali che ci dividono ognuno dagli altri tutto quel male possibile che possiamo vedere bisogna andare a fondo sempre andare a fondo il Vangelo Domenico ascolta Israele la prima cosa non è la prima cosa che mi devi amare la prima cosa è che devi ascoltare ascoltare vuol dire apri il cuore cerca che troverai ascolta discerni tutto quel profeta Geremia era lui mi pare dice informatevi circa la strada buona dove sta la strada buona circa i sentieri del passato e percorreteli e troverete ristoro e pace per le vostre informatevi informatevi il dramma di oggi è la gente che cammina a precipizio non gli passa manco per anticamera del cervello ma non sarà che io mi sono completamente dimenticato di Dio di chi lui è di quello che lui vuole e non l'ho mai approfondita questa cosa questo è una tragedia abbiamo visto prima distrugge i suoi più alti disegni vanifica tutto il bene che Dio ci ha fatto che Dio ce ne scampi e liberi e ci conseda invece di conoscere apprezzare e vivere l'infinita grandezza dei suoi dubbi mia benedizione a tutti una santa notte appuntamento per chi lo crede alla prossima puntata Fiat Ave Maria Grazie